Siamo qui con il professor Luigi Carrino, presidente del DAC, distritto aerospaziale campano, che negli ultimi mesi è diventato forse il riferimento più importante per un'ipotesi e il progetto di rindustrializzazione della nostra regione, intanto per chi raccoglie le realtà più significative e importanti del comparto aerospaziale e poi perché anche rispetto ai rapporti con il MIUR, il riconoscimento che ho avuto a livello nazionale e internazionale per i progetti presentati, ne fanno un riferimento e una realtà concreta. Professore, allora come sta la questione? Facciamo un po' il punto, cercando anche di capire poi questi 90 milioni che più o meno dovrebbero arrivare dalle risorse pubbliche, come e quando si trasformeranno in progetti reali e occupazione concreta in particolare per la nostra regione? Quello che oggi noi abbiamo ottenuto è il risultato di un percorso cominciato molti anni fa, cominciato con due esperienze molto importanti, una fondamentalmente portata avanti attraverso l'assessorato alle attività produttive della regione Campania, già dalla vecchia giunta a Bassolino e poi dall'assessorato alla ricerca, l'una era Campania Aerospace ed era un'iniziativa finalizzata a sostenere la presenza delle imprese campane dell'aerospazio sui mercati internazionali e l'altra era il CARN, il Campania Aerospace Research Network che io ho presieduto, che invece sperimentava come creare un network fra sistema della ricerca e sistema delle imprese finalizzato all'innovazione tecnologica. Queste due esperienze sono state importanti, sono andate in parallelo ma coordinate tra di loro fino a quando qualche anno fa non si arrivò a capire e a prendere le decisioni conseguenti che politiche per l'innovazione non possono essere disgiunte da politiche industriali, da politiche della formazione del lavoro e in qualche modo, visto il settore al quale noi facciamo riferimento, anche dalle politiche per i trasporti. Fu in questo quadro che venne creato il comitato regionale per il distretto aerospaziale in regione Campania con un atto forte perché ci fu una delibera regionale della giunta regionale. Con questa delibera fu creata una cabina di regia che metteva insieme e coordinava i quattro assessorati con le competenze che ho ricordato e un tavolo del partenariato dei soggetti interessanti alle politiche per l'aerospazio in cui erano presenti i rappresentanti delle imprese, i rappresentanti dei centri di ricerca, delle università e di questo io me ne faccio un vanto, per la prima volta in Italia un'esperienza simile portava al proprio interno i rappresentanti dei sindacati e quindi avevamo, ricordo benissimo, i rappresentanti CGL, CISUIL e dell'UGL che erano i quattro sindacati con presenza in settore aerospaziale. Con l'idea che non ci può essere sviluppo se non coordinando queste politiche. Non abbiamo avuto a disposizione uno strumento formale, uno strumento normativo per creare il distretto aerospaziale fino al momento in cui il MIUR non ha bandito all'interno del PON ricerca e competitività questa possibilità, questo bando per creare distretti ad alta tecnologia. È stata la prima occasione che abbiamo avuto e l'abbiamo colta, quindi abbiamo creato il distretto ad alta tecnologia dell'aerospazio che è la rete che mette insieme imprese e sistemi della ricerca finalizzata a fare politiche industriali attraverso l'innovazione. Quindi la prima cosa che io voglio dire è che il riferimento al MIUR è opportuno quando si parla del fatto che abbiamo utilizzato un bando MIUR, ma poteva uscire prima un bando dello sviluppo economico e oggi saremmo un distretto con legami con il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi è in essenziale il Ministero o l'occasione che abbiamo colto. L'importante è che la Campania oggi abbia un sistema organizzato che mette insieme fra i 135-140 soggetti che coordina i propri programmi di sviluppo e di ricerca mirando a degli obiettivi di tipo industriale. Professor, lei faceva riferimento a programmi precisi legati ai progetti industriali. Qui chiaramente è d'obbligo la domanda su quello che è il progetto, il progetto che può rimettere in moto l'industria campana dell'aerospazio, cioè il nuovo turboelica e quindi una scelta industriale da parte del player Alenia Armacchi. L'altra domanda che le faccio rapidissima è l'altro riferimento che le faceva a Campania Aerospace che era uno strumento per l'internazionalizzazione delle imprese. Su questa questione dell'internazionalizzazione il DAC si propone in termini anche di organizzazione di contatti, eventi che possono in qualche modo riuscire a creare quell'aggancio tra la filiera nostra delle piccole imprese che è un'eccellenza riconosciuta ma che difficilmente riesce a costruire poi accordi industriali concreti e a riportare quindi sul territorio quelle cadute importanti in termini economici e occupazionali. Per quanto riguarda la prima domanda, ha ragione, l'Italia non ha avuto mai un programma completo di propria responsabilità per un aereo dell'aviazione commerciale, per l'aviazione civile ovviamente. Quindi Alenia da molti anni lavora in maniera straordinaria su velivoli anche molto grandi e molto importanti come il Boeing 787 ma comunque come fornitore di parti anche se di sezioni importanti, l'A380 e ne potremmo citare tanti altri. Diciamo che noi abbiamo un fiore all'occhiello, noi italiani che condividiamo con gli amici francesi dell'ATR. L'ATR è uno straordinario successo, forse il più importante successo nella storia dell'aviazione commerciale, dell'aviazione passeggeri, dell'aviazione civile. È un aereo che è nato fra la fine degli anni 70 e gli inizi dell'anno 80, oggi è un aereo che si vende moltissimo, ci sono già ordini per i prossimi anni, perché ha dimostrato che un aereo con 70 posti circa, mosso da turboeliche che consuma poco, sui quali oramai il comfort è diventato elevato, è veramente una chiave importante per favorire il trasporto passeggeri. Ora il mercato fa qualche richiesta in più, quindi noi abbiamo la possibilità attraverso Alenia Ermacchi e in partenariato con gli amici ADS francesi, sempre nella joint venture che chiamiamo ATR, di dare avvio a un nuovo programma per quello che sarà il successo dell'ATR, che non è un ATR più grande, perché molti lo chiamano e lo individuano come l'ATR da 90 posti. Ora è vero che saranno 90 i posti di partenza. Però sarebbe sbagliato a pensare che l'unica cosa nuova che c'è su questo aeromobile è che i posti da 72 sono diventati 90. È un aereo che utilizza tutte le tecnologie più avanzate oggi disponibili, anche quelle che finora sono state limitate ai grandi aereo e alle applicazioni militari, che fa sì che un aereo come questo sia confortevole, inquini poco, faccia poco rumore sia all'esterno che all'interno, che consenta interventi di manutenzione molto limitati e che abbia anche standard di sicurezza altissimi. Una parte molto importante dei progetti del DAC sono finalizzati a dare non solo ad Alenia la sua cadena della fornitura, ma anche alle importanti aziende campane come la Magnaghi per i carrelli di atterraggio e la Geven per gli interiors, tutto il supporto per sviluppare queste tecnologie innovative. Se vinciamo questa sfida, se la campagna si conferma essere la regione capace della migliore organizzazione industriale, delle migliori capacità tecnologiche per affiancare Alenia, la campagna sarà la regione leader su cui noi vedremo realizzare all'incirca il 70% del nuovo velivolo. La campagna ha sempre avuto un ruolo molto importante, ma in fondo è stato un po' il carrozziere dell'aeromobile. Avere qui la linea finale significa che non solo noi montiamo la carrozzeria, fabbrichiamo e montiamo la carrozzeria, ma che noi possiamo fornire e montare parte invece di elettronica, sistemi di bordo e un salto in avanti. Professore, riparto un po' dal riferimento che lei ha fatto alla linea finale, che in qualche modo pone un problema, secondo me, che lei può aiutare anche a capire. Lo spazio, l'area, è un dubbio che abbiamo in molti. Come riuscire a individuare sul territorio napoletano e campana l'area necessaria per realizzare un impianto di questo tipo? Noi soffriamo del fatto di avere a legna su Capodichino e Capodichino è un aereo che condivide uno spazio importante per i voli passeggeri, con una parte importante destinata alla manutenzione che non dobbiamo dimenticare e anche con un pezzo dedicato alla parte militare dell'aeroporto. È un aeroporto che è al centro della città, periferico, ma all'interno di un contesto urbano con una forte presenza antropica. Quindi le possibilità di espansione di Capodichino sono, secondo me, abbastanza limitate. Noi in questo periodo, anche con interventi sulla stampa, con incontri politici, stiamo cercando di sottolineare l'importanza che si definisca un piano degli aeroporti della Campania, che non guardi solamente all'importantissima questione del trasporto passeggeri, ma che definisca una serie di infrastrutture aeroportuali, alcune delle quali, al servizio delle imprese, delle grandi e delle piccole. Capua, secondo me, può e deve diventare l'infrastruttura aeroportuale a servizio dell'aviazione generale, cioè aziende importanti come la Tecnam, l'Omasud, di cui io sono sicuro poi potrà riprendere a lavorare pienamente le iniziative come quella dell'elicottero innovativo della K4A. Cioè abbiamo una ricchezza di aviazione generale che già è presso l'aeroporto di Capua, ma che ha bisogno che quel territorio, quell'aeroporto, siano organizzati, dotati di tutte le strutture, di tutte quelle qualità, la vicinanza col Ciro, che fa benissimo a ricordare. Quindi io credo che i decisori politici dovrebbero al più presto fare una riflessione profonda e se arrivano a confermare che Capua è un polo di attrazione dell'aerospazio, per quanto riguarda in particolare l'aviazione dei piccoli aerei, quella che noi chiamiamo aviazione generale, dovrebbero avviare un rapidissimo percorso di sistemazione dell'aeroporto e dell'area circostante. Non credo che Capua risolva anche il problema della linea finale Alenia. Per quella bisogna o pensare a degli importanti interventi sull'aeroporto di Capodichino, ma che significa secondo me anche dover mettere mano con delle decisioni importanti e pesanti all'area circostante. Quelli che sono del settore forse sanno che Alenia per lavorare deve entrare in certe ore della notte per fare manovre che altrimenti di giorno non potrebbe fare. Non è la stessa Vulcanair, cioè non ci sono in questo momento le condizioni che una situazione moderna, una situazione di competizione deve poterci invece mettere a disposizione. Probabilmente potremmo inserire all'interno del discorso anche la questione di Grazzanise e quindi decidere una volta per tutte se Grazzanise è un'alternativa in termini di voli civili e quindi in qualche modo alleggerire Capodichino oppure se questa cosa è tramontata e molto lontana sarebbe un peccato non usare l'area di Grazzanise con gli opportuni interventi dotata di un sistema di trasporto intorno di strade che non sono male, bisogna intervenire ma in maniera non pesante, non finanziata e fare di Grazzanise il polo della grande aeronautica commerciale. Fare di Grazzanise un po' quello che è in piccolo ovviamente ma in maniera importante quello che è stato Tolosa per i francesi e per le ADS. Il professor oggi ci ha dato una notizia, grazzanise vista in questa nuova ottica considerando che il discorso di Gross Aeroporto Internazionale con il nuovo piano del ministro Profumo pare che in qualche modo si sia allontanato nel tempo.